Sono tutti i povergiesi che fanno questo gemellaggio. Senti, un gemellaggio, tu che sei una delle menti occulte del reddito dell'anno storico, però poi sei venuto più a correre questo benissimo. Questa è una bellissima gara, perché io la considero la seconda tappa del re della lana. Devo dire che sono duro, più duro del re della lana, e aver avuto questa gara qui dopo anni di stop in questa bella posizione è veramente grande. Sei dalla potenza in uno assoluto? Sì, lo so, per fortuna, grazie. No, 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 fortunatamente ho fatto. No, 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 no. No, 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 no Grazie a tutti.